beh non pensavo che l'avrei detto ma mi comincia a piacere ciao a tutti benvenuti in un nuovo video oggi vi propongo qualcosa di un po' diverso e come avrete intuito dal titolo cercherò di realizzare un disegno con delle matite colorate che è un materiale che io non amo particolarmente però siccome mi piacciono le sfide ho deciso di farmi aiutare da un artista eccezionale e vedere se riuscirà a farmi amare le matite colorate anni fa ho comprato questo set e come vedete è un set enorme che non ho usato molto l'ho comprato per un progetto che poi diciamo è rimasto un po' lì e quindi poi non le ho usate granché tranne l'indaco scuro questo sì perché le matite colorate non mi piacciono se mi seguite da un po' avrete notato che a me piace la pittura soprattutto l'acquerello la tempera comunque materiali molto fluidi che presuppongono tanta acqua perché mi piacciono proprio gli effetti pittorici gli effetti un po' imprevisti dell'acquerello mentre i materiali secchi si trovano proprio all'opposto perché sono un materiale molto controllato e presuppongono un processo lento una stratificazione e quindi anche un tipo di procedimento che io trovo un po' noioso anche la resa finale per quanto ci siano dei lavori straordinari con le matite colorate tipo quelli che mi sto mostrando adesso non mi attraggono particolarmente tempo fa però stavo curiosando su domestica per scegliere un corso e mi sono imbattuta in questo corso di marco mazzoni e guardando i lavori che fa è veramente difficile non sentirsi attirati da questo modo di usare le matite e poi c'è questo elemento surreale un po' magico che invece mi risuona molto quindi ho pensato ok non mi piacciono le matite colorate però mi piacciono le sfide vediamo se effettivamente riesco a trovare un modo per amarle di questo sito mi avete sentito già parlare un po' di volte di domestica è un sito in cui trovate moltissimi corsi online l'accesso è illimitato quindi una volta che voi acquistate il corso potete seguirlo con i vostri ritmi e tempi ce ne sono veramente tantissimi se volete io ho un paio di liste con dei corsi che ho trovato particolarmente interessanti o che mi sembrano interessanti e magari seguirò nel futuro alcuni ho già seguiti e sono dei corsi che sono molto spesso in offerta quindi poi diventano veramente convenienti non sono dei corsi molto tecnici cioè non imparate una tecnica da zero sono più che altro dei corsi molto specifici e la cosa che io trovo interessante è che siccome sono tenuti da degli insegnanti che sono tutti degli illustratori artisti professionisti vi fanno un po' entrare nella mente dell'artista quindi vi fanno capire qual è l'approccio di quell'artista con quella tecnica e quindi è molto interessante e molto utile anche per quando uno si sente un po' in stallo in blocco e ha bisogno di un po' di ispirazione un po' di motivazione e ho deciso di darvi anche un ulteriore sconto quindi se volete usare il mio coupon dura circa un mese così se vi faccio venire voglia di seguire questo corso o altri corsi con questo video potete acquistarlo scontato ma adesso veniamo al progetto di oggi allora io non ho ancora fatto nessuna prova ho fatto qualcuno degli esercizi preparatori perché volevo lasciare appunto il progetto finale per questo video e regalarvi una reazione un po' spontanea a caldo quindi la prima cosa da fare è scegliere il soggetto io sono andata a ritirare fuori dei vecchi lavori che avevo fatto anni fa che sono dei collage digitali perché c'è questo elemento appunto surreale che si sposa bene con tutto il discorso anche che fa Marco Mazzoni nel suo corso e ho scelto questo qui lo cambierò un pochino però sarà il mio punto di riferimento il mio punto di partenza mi sono preparata un disegno veramente molto leggero non so se riuscite a vederlo perché lo voglio tracciare direttamente con le matite colorate poi quello che dobbiamo fare adesso è scegliere la palette quindi metto un attimo il mio disegno da parte e comincio a pensare alla palette e anche qui non voglio che sia una palette troppo naturalistica voglio proprio ispirarmi ai colori anche molto fantasiosi che usa Marco Mazzoni sicuramente voglio dei toni caldi per riprendere comunque l'elemento della volpe e vorrei alternare un po' colori brillanti e forti con colori un pochino più terrosi quando vedo due colori che potrebbero stare bene insieme me li metto da parte poi voglio scegliere dei colori che possano essere interessanti appunto sovrapposti forse qualche blu scuro potrebbe servirmi se voglio inserire un elemento più cosmico però non ne sono ancora sicura ecco questa cosa di lasciare un po al caso il disegno come faccio con l'acquerello e con l'acquerello funziona non so se funzionerà stavolta con le matite quindi materiali diversi presuppongono anche un po una strategia diversa questo seppia è molto interessante e si sposa bene con il resto della palette quindi questa potrebbe essere la mia palette nel suo corso Marco consiglia di fare diverse prove quindi provo a fare anche una seconda palette così vedo poi quale mi sembra che funzioni meglio così adesso sono ancora più indecisa di prima allora devo dire che questi quattro mi piacciono un sacco potrei adesso creare una terza per mischiare un po quello che mi piace dell'una e dell'altra ok deciso provo a andare con questa palette e vediamo che succede e un'altra cosa che suggerisce Marco nel suo corso è di disegnare e questa è una cosa molto molto diversa da come lavoro io una specie di finestrella quindi non procedere con tutta l'area del disegno visibile ma con soltanto una porzione del disegno alla volta questo lui lo propone perché lo aiuta a mantenere la stessa tensione all'interno di tutto il disegno quindi anche lo stesso livello di dettaglio e anche qui se mi conoscete mi seguite sapete che per me di solito il contrario io cerco di creare dei punti focali molto definiti all'interno di diciamo composizioni che sono un po più sfumate prendo ora tutte le mie matite che ho scelto questa finestrella la userò non appena avrò rimarcato un pochino di più il disegno perché così se no non si capisce niente quindi vado a prendere la mia immagine di riferimento e comincio a creare una linea che è già una linea in qualche modo espressiva questo mi piace un sacco dei lavori di marco mazzoni perché si vede che c'è una linea che da subito parte con sicurezza con scioltezza e non è una linea che sta attenta a essere precisa ad essere realistica quindi sceglierò il mio colore di base non non il tepia perché questo sarà per i miei scuri un colore diciamo un tono medio che potrebbe essere questo caput mortum quindi cerco di di cominciare con delle linee già in qualche modo sentite poi anche questa è una questione di esperienza so che se parto molto precisa poi è molto più difficile sciogliersi mentre se do un'impostazione è già un po' espressiva sarà molto più semplice poi seguire quell'andamento là la cosa che sarà difficile per me è che proprio associo le matite a un controllo e a una precisione quindi è difficile e fa parte della sfida quello di usarle come uno strumento più espressivo un'altra cosa che ho notato quando disegna marco non solleva spesso la matita dal foglio ne crea dei tratti più tondeggianti morbidi curvi e poco spezzati e poi un'altra cosa che non usa mai la gomma questo però secondo me è un concetto poco applicabile per chi non è già un artista affermato con tanta esperienza adesso inizierò con la mia finestrella nella parte che sento un po' più tranquilla perché nella parte inferiore qui ancora non so bene come svilupperò cosa che propriamente non si dovrebbe fare con le matite colorate però voglio proprio sperimentare quindi parto dalla parte superiore e adesso sto ancora con questa matita qui per creare qualche segno in più perché appunto mi devo ricordare di stratificarle le matite comunque questo metodo della finestra non vuol dire che poi non ci si possa ripassare anche in un secondo momento però come primi strati procedere un pezzo alla volta e cominciamo con tutti questi segnetti e segnettini delle matite che rendono il processo piuttosto lentino una cosa che sicuramente può aiutare è mettere una musica di sottofondo e prenderla come un qualcosa di rilassante un motivo per cui non uso questo metodo di fare quasi finire un pezzo alla volta ma cercare di far progredire tutto un po' sullo stesso livello è che poi quando leviamo e vediamo che tutto il resto è ancora da riempire non lo so mi fa venire un po' meno voglia di andare avanti però perché lo sto facendo potreste chiedere perché fai una cosa che già sai che non ti che non ti appartiene allora mi piace cercare a volte di cambiare il mio modo di fare per due motivi sia perché in questo modo spesso riconfermiamo a noi stessi perché facciamo determinate scelte e però si aggiunge la consapevolezza cioè non è che faccio così perché mi viene spontaneo e basta ma faccio così per un motivo vedere un metodo di lavoro opposto ci rende più consapevole sul perché facciamo certe scelte d'altro canto invece può succedere che troviamo quel modo di lavorare interessante questo non vuol dire che dobbiamo cambiare totalmente il nostro ma che possiamo integrarne qualche parte e questo secondo me fa parte del processo di crescita e di evoluzione di un artista qui io sto procedendo abbastanza al buio a casaccio e secondo me quello che devo fare è quando trovo qualcosa che mi piace ne prendo nota mentalmente e cerco di applicarlo al resto per esempio questa sovrapposizione qua con i verdi e con i rosa mi sta piacendo quindi ne prendo nota e forse posso già cominciare già posso cominciare a spostare la mia finestrella i punti molto scuri come dicevo prima li metterò alla fine quando si sposta la finestrella bisogna comunque lasciare un pezzetto in modo che ci si ricorda un po quello che si è fatto se no rischia poi di ritrovarsi con una specie di collage di parti che non comunicano bene tra di loro qui la parte del pelo bianco non deve restare bianca ma magari posso sperimentare con dei colori un po diversi per creare le ombre le ombre bianche sono sempre interessanti perché le possiamo ci possiamo giocare posso per esempio provare dei toni un po più freddi si può decidere di levare cedere alla curiosità ogni tanto oppure resistere però già abbastanza difficoltà così quindi vedere nell'insieme mi aiuta penso che continuerò così ok mi forzerò a usare questo metodo della finestra ma diciamo che non ci voglio stare troppo non voglio sentirlo finito quel pezzo lì perché so che ci saranno dei cambiamenti importanti ovviamente chi lavora così da tanto tempo ha poi sviluppato dei metodi che funzionano chi lo usa per la prima volta è anche giusto che lo adatti un po al proprio modo di fare quindi anche questo è un consiglio che vi do quando seguite dei corsi cercate un equilibrio tra applicare le regole che vi sono state insegnate e poi però infrangerne qualcuna perché siete consapevoli della vostra anche del vostro grado di esperienza devo essere sincera non sto pensando troppo a cosa creeranno a quali colori creeranno le tonalità che sto sovrapponendo cioè sto andando un po a intuito perché mi piace anche avere dei toni un po sorprendenti ok per il momento la metto da parte della finestra perché non riesco più a vedere quello che sto facendo e poi mi si blocca troppo il segno qui la pelle comincia a cambiare quindi cerco di cambiare anche il tipo di tratto meno spezzato però ancora non so bene cosa sto facendo un'altra cosa in cui l'acquerello e le matite sono diametralmente opposti è che ci sono dei gesti ampi con l'acquerello molto ampi almeno per come lo uso io con le matite ci sono tutti questi piccoli tratti uno vicino all'altro e quindi faccio un sacco fatica a creare un senso anche di unità questo non so che cosa sia forse in questo caso mi conviene dare un tono di base e eventualmente tornare dopo con dei tratti più espressivi è fondamentale devo cercare un modo per divertirmi perché altrimenti se non mi piace quello che sto facendo non mi diverto e poi non può venirmi bene ecco creare dei tratti già un pochino più nervosi un po più veloci già mi dà un po di ispirazione in più più conoscete il mezzo che state usando più riuscite a trovare un modo che funzioni per voi allora qui che ho cominciato a mettere gli scuri già mi sembra che prenda un po più di forma e sia un po più interessante anche per la presenza di questo rosa quello che mi piace delle matite colorate soprattutto quando le vedo usate da altri è questa delicatezza le sfumature che si creano molto sottili quello che non mi piace è il procedimento così così lento e meticoloso vorrei provare a fare un po di di mettere un po di azzurrino sulle punte delle orecchie sto cercando proprio quegli elementi che me le fanno male di più le matite quindi i sottili cambi di tono di sfumatura li trovo molto affascinanti quindi non si può dire che io non stia provando fino all'ultimo ad amare questo materiale sicuramente una cosa che ho visto fare a Marco Mazzoni è procedere per velature molto sottili cioè non so si chiamano velature con le matite colorate diciamo per strati molto molto sottili cosa che io non ho assolutamente la pazienza di fare e quindi sto creando un riempimento un po' pieno per i miei gusti però se non comincio a vedere prendere forma quello che sto facendo perdo veramente tanto interesse non so se vi capita anche a voi diciamo che di questo lavoro posso dire che i colori sono messi sì per ricercare degli effetti cromatici che mi risultano interessanti ma non hanno senso cioè non hanno senso all'interno del disegno questi sbuffi azzurri li voglio portare un po' in giro perché è un elemento che che crea un pochino di dinamismo e come forse avrete notato sto cercando disperatamente di trovare dei punti di interesse in questo disegno comunque le potenzialità le intravedo le capisco le potenzialità delle matite sicuramente ci vuole un diverso stato d'animo molto meditativo io sono troppo abituata all'immediatezza dell'effetto pittorico io sto un po' sto cominciando a esaurire la mia voglia di fare questo disegno quindi quando è così accetto che devo cambiare un attimo il mio approccio quindi voglio intanto riempire un po' di colori questo anche se non procedo in maniera accurata come ho tentato di fare finora ne ho bisogno altrimenti questo disegno fa una brutta fine comunque c'erano veramente troppi colori io quando uso troppi colori mi destabilizzo non riesco a mantenere l'eleganza nella stesura dei colori quindi se di questa cosa ne sono ben consapevole con l'acquerello qui ho pensato che una palette troppo limitata fosse un problema adesso sinceramente non lo so non so che pensare però quando si si mette poi uno strato scuro come sto facendo adesso in realtà la palette si comincia ad armonizzare perché si sovrappone a quei toni che magari sembravano un po' troppo casuali quindi adesso allora come fare quando si ha un disegno del genere e non si sa come andare avanti lo osservo e vedo quali sono i punti che mi piacciono di più quindi ci sono dei punti in cui che secondo me funzionano di più perché c'è più contrasto il colore funziona meglio quindi seguo quelli e appunto cerco di capire cosa ha funzionato per poterlo poi estendere ad altri punti del disegno ad esempio qua comincio a riproporre queste linee molto più scure e i punti importanti che sono poi per esempio quello dell'occhio quindi adesso mi dedicherò un pochino all'occhio andando a calcare molto di più di quanto ho fatto fino adesso ah io ancora non ho usato il mio seppia quindi in questi punti può essere d'aiuto perché direziona subito lo sguardo ecco già ha molto più senso così i punti scuri dovrebbero essere un po' quelli che vengono messi alla fine però può essere utile farli in un momento in cui si è in stallo quindi non per forza alla fine ma in un momento critico del processo pittorico poi questa matita scura può aiutarmi anche a rendere la palette un po' più ordinata perché ok volevo mettere gli accenti di colore ma c'è un gran macello quindi posso provare anche a dare un tono unico in alcuni punti per unificare sempre un po' ad esempio il rosa lo posso mettere qui e insistere con diverse sfumature sempre un po' calde perché il problema che ha questo disegno in questo momento è che è molto piatto io lo trovo piatto è tutto un po' indeciso cioè lo trovo proprio faticose le matite per creare il contrasto anche veramente una gran fatica però ecco così con un tono un po' più uniforme di base già forse ha un po' più senso non lo so faccio la stessa cosa qua sotto con un tono più uniforme per dare un po' il senso di massa perché sennò ecco quello che io odio delle matite colorate è che escono fuori questi colorini e questi tratti un po' separati l'uno dall'altro è difficile dare una sensazione di di un oggetto tridimensionale con un po' di massa con un po' di sostanza ecco ok pure queste strane cose stanno funzionando un po' di più quindi comincio a vedere piano piano la fine io penso che se già vi piacciono le matite colorate questo corso vi piacerà tantissimo comunque sicuramente è d'aiuto fare un piccolo studio senza che sia un disegno completo però stavolta però stavolta siccome già sapevo che più che altro era una mettermi alla prova volevo fare questo esperimento così quasi in diretta con voi da qui in poi comincia quel balletto mentale del finito o non è finito la mano non mi dispiace devo dire che forse è la parte che mi piace di più beh non pensavo che l'avrei detto ma mi comincia a piacere bene io ci ho provato fatemi sapere se vi piace questo disegno non lo so come lo interpretate se ci vedete qualcosa di interessante se è stato divertente vedermi combattere un po' confidenza è stato un processo che non definirei divertente ma comunque interessante e che fa tutto parte del processo di crescita e di esplorazione quindi invito anche voi a mettervi alla prova magari con qualcosa con cui non avete molta esperienza perché non sappiamo mai cosa potremmo trovare e che potrebbe veramente essere importante per arricchirci a livello artistico fatemi anche sapere se vi fa piacere vedere più video del genere perché è stato un po' un esperimento per me e niente io sono contenta di aver fatto questa cosa ci sono stati dei momenti di crisi ma poi devo dire che alla fine almeno tirare fuori un disegno finito da sempre soddisfazione non credo che userò di nuovo le matite colorate o comunque non da sole però sono soddisfatta di come è andata quindi niente io vi ringrazio per aver guardato fino alla fine fatemi sapere le vostre impressioni nei commenti e ci vediamo presto nel prossimo video grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti